Il progetto proposto dal genio civile di Teramo e dai tecnici incaricati si discosta dal piano di difesa della costa, approvato dalla stessa regione Abruzzo ed è carente negli studi. Sono queste le motivazioni con cui il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale ha rinviato il progetto relativo ai lavori anti-erosione proposti per la spiaggia di Pineto. A rendere noto lo stop all'atteso progetto di tutela della spiaggia antistante la Pineta Catucci e non solo è stato il sindaco Robert Verrocchio che nei giorni scorsi aveva prodotto osservazioni puntando a interventi in linea con il piano regionale di difesa della costa già approvato da realizzarsi con un cronoprogramma ben delineato. Abbiamo ricevuto il progetto nuovo, ovviamente ci è stato chiesto come ITER prevede di esprimere osservazione sia noi sia all'area marina e abbiamo chiesto intanto di munire anche il nuovo progetto degli stessi studio meteomarini che dimostrassero come ha fatto il primo studio attraverso lo studio che hanno fatto i tecnici progettisti che non vi siano in futuro o almeno per un certo numero di anni effetti che possano preoccupare e in più abbiamo anche evidenziato altri due fatti che non era coerente con il piano stesso della regione Abruzzo. Noi abbiamo anche atteso diciamo lo scorso anno per approvare il nostro progetto che venisse approvato quello della regione per essere in linea. È successo avanti ieri che il comitato via della regione Abruzzo fondamentalmente ha evidenziato questo, cioè ha rimandato indietro il progetto dicendo questo non è coerente con il piano di difesa della regione Abruzzo. Quindi ci chiediamo la regione che incarica un commissario per redigere un nuovo progetto poi in qualche modo blocca se stesso. Quindi questo è successo sostanzialmente, quindi è dispiaciuto insomma in questi giorni che si sia in qualche modo voluto criticare il comune o anche l'area marina. Però ecco non ci piace agire con superficialità, cosa che invece abbiamo notato insomma in questi ultimi due o tre mesi. Questo però porta ad allungare ancora di più i tempi per la realizzazione dell'opera? Io a questo punto immagino che il nuovo progetto dovrà essere adeguato e simile al progetto che abbiamo consegnato. E quindi mi chiedo perché non sono andati avanti col progetto che avevamo? Avremmo guadagnato sicuramente mesi. Ecco questo è l'acquisito che pongo.